Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella terza puntata di Mazzeslimer ITA Quarantena Edition. Siamo qui appunto con gli ultimi sei rimasti, siete rimasti in sei, quindi i sei migliori Slimer concorrenti di questo concorso. Quindi veramente complimenti a tutti quanti, bravi bravi Slavia oggi sostituirà Emanuele perché non c'è per problemi personali e darà lei voti per questa puntata. Quindi lei non sarà l'ospite speciale ma sarà un giurato come lo era Emanuele. Prima di iniziare la prova e prima di spiegarvi tutto, voglio dirvi che oggi ci sarà il free test che dopo vi andremo a spiegare, però prima di spiegarvi la sfida voglio far entrare l'ospite speciale che oggi assegnerà appunto un voto da 1 a 10 alla persona che secondo lui ha fatto lo slime migliore. Eccolo finalmente il merluzzo. Ok ragazzi il giudice speciale è Daniele. Buonasera. Sarà il giudice appunto speciale che darà un conteggio da 1 a 10 per una sola persona. Prego Daniele vuoi dire qualcosa? Mi fa piacere che mi abbiate tenuto in considerazione, sono molto curioso, è arrivato un bel lavoro, penso che notate la mia felicità, sarà molto bravo, quindi sono curioso di vedere chi sarà il Master Slime. Allora, praticamente oggi non c'è Emanuele e quindi sostituisce Flavia. Esatto. Allora ragazzi, la prova di oggi sarà il free test. Allora, il vincitore della scorsa puntata che è stato Mattia di Creative Slime ASMR, cosa farà? Assegnerà un tema che tre persone, tre suoi sfidanti dovranno eseguire, appunto che sceglierà lui. Poi tutte le altre persone, quindi le altre persone restanti che può essere sia lui o altre persone, decide lui. è tutto nelle sue mani. Esatto. Poi lui cosa potrà fare? Potrà stoppare il tempo e appunto avere per se stesso cinque minuti. Tutti gli altri devono rimanere fermi. Vai. Io ho deciso di usare come tema l'estate. Ok. L'estate. Quindi ovviamente loro interpretano come lo vogliono fare. E queste tre persone, ci sono anche io. Ok. Ok. Saranno Slime by Sophie. Ok. Ok. Poi Dragon Slime. Ok. Ok. E? E tu? E... E tu? E tu? E tu? Sì, è tocca. E invece le saranno libri di fare... Praticamente tutti gli altri potranno fare quello che vogliono. E... estate. Ho capito bene? Questa doveva essere la mia prova libera. Dove potevo dar sfogo alla mia creatività e invece... Estate. E adesso... Panica. I due minuti iniziali per raggruppare tutti gli ingredienti iniziano ora. Perfetto. Ok, visto che tu abbia due minuti, direi che stavo facendo domanda allo spiega di oggi, Daniele. Crea il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. Mi dico, Taro. Allora, a riguardo agli slime, ovviamente, tu ti sei avvicinato agli slime, immagino, da Yolanda. Diciamo, sarebbe stato un po' difficile. Vorremmo avere un po' la tua esperienza, insomma. Allora, ti dico la verità, all'inizio io gli odiavo gli slime. Pessimo. Penso si sia, cioè, l'ho detto già altre volte, non hai proprio, non capivo proprio l'utilità dello slime. Ehm, no, giustamente, c'era un hater. Era un hater di io, no, no, non mi piaceva. Scagliola! Scagliola, risalutano! Ehm, vabbè, poi, giustamente, vedevo lei farli, comunque, per i video, eccetera, eccetera, poi, se, poi, in gigantica una cosa. Di che curiosità, poi, l'ho fatto anche io, e non mi venivano assolutamente, ero zero, proprio. Ehm, beh, poi, ragazze, rifarli, mattino, vedevo tant, 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 tant. Devo rivedere! E l'ispirazione... E l'ispirazione, l'è a posto mio! Esatto, l'ispirazione per il tuo canale YouTube, invece? Ma, tendenzialmente, perché era lo sfizio di aprirlo, capito? Non c'era una motivazione secondaria. Avevo, voglia di avere una cosa mia, capito? Nel senso, perché, comunque, partecipo con Iole, però, poi, sono un ospito del canale, non è mio. Invece, nel mio, faccio anche cose che, poi, tendenzialmente, mi diverto a fare. Cioè, vedi, se io non c'ho un format preciso, faccio quello che mi passa per la testa. Diverto! Un'altra domanda, perché mi è riuscito? Ehm, allora, questa è già stata stessa, la cara signora Iolanda, eravamo in gommone, e io stavo portando il gommone, e... teniamo il cappellino, in testa, tipo, capitano, no? Da lì, Yolanda, mi prendevi in giro, è sempre capitano a Merluzzo, mi prendevi in giro. Da là, l'olio più ci stai, la storia, si vedeva con Merluzzo, così qua, e ha visto che mi piaceva sto fatto del Merluzzo, poi, a ragazzini piace, no? Quando c'è il nomignolo, ci fanno i giri, e quindi... Da là sono Merluzzo. Ok, stop, ragazzi! Stop! Stop! Allora, i 20 minuti di prova iniziano a... Ricordo, quando vuoi tu, stop il tempo per 5 minuti, ok? Quando vuoi tu, decidi. 3, 2, 1, via! Via! Allora, continuerei con le domande a Daniele. Conosci qualcuno qui oggi in puntata? Ma direi un po' tutti, nel senso almeno di nome della page, alcuni ci parlo anche, quindi... Nel senso, li conosco a gran parte. Ottimo, ottimo! Prepariamo una base, sì, dai, prepariamo una base che un'idea mi verrà in mente. Apriamo la colla. Non si apre la colla. Ancora più panico. Scusate. Sì. Mi sentite? Sì. Io ho un problema che non posso aprire la colla, posso farmela aprire un secondo? Scusate. Pericordaci, vai. Sì, sì, vai, vai. Vorrei vedere un po' i ragazzi se hanno qualche idea. Ah, spero. Flavia, tu invece cosa ne pensi di questo tema? Ah, esatto, cosa ha deciso di fare. Io in realtà non avrei scelto il tema estate, però vabbè, alla fine con la bici e la stagione. Sì, sì, sì. Dai, è un tema abbastanza vario, sono tantissime cose da fare. Poi le consistenze tutte si possono fare, quindi è molto vario la fine, è stato abbastanza buono. Sì, infatti. Lui ha veramente questo tema l'ha molto in realtà, perché ci diceva proprio, fai il tema estate. Esatto, esatto, l'hai già detto. Veramente. Voglio prima vedere cosa ci vuole presentare questo tema, questo tema estate. Ci vorrebbe lo slime con la sabbia. Vediamo un po' cosa. Questa non ha capito. Ci vorrebbe lo slime con la sabbia. Esatto. Bella, bella. Bello slime con la sabbia al mare. Quindi vogliamo andare già direttamente da lui per vedere cosa ha già in mente o... Che vuoi fare? Sì, sì, andiamo subito da Mattia per vedere cosa ha in mente. Vai, vogliamo sapere. Allora, io ho in mente di creare proprio la spiaggia. Ah. Ok. Quindi proprio per l'idea che hai detto da lì nel prima. Sì, cioè, vorrei creare proprio la sabbia, un'isola vorrei creare. Quindi fai lo slime giallo, tipo isola, queste cose qua. Vedremo. Poi si vedrà. Poi si vedrà. Poi, tu dici. Ok. Va bene. Andiamo avanti con qualcun altro. Allora, vorrei sentire un po', Sofia, oggi la sento un po' poco presente. Sofia, si senti? Sofia? È concentrata. Allora, sapevo che mi avrebbe segnato il tema e avevo la stessa idea di Sofia. Ah. Quindi avete la stessa idea? Sì. Quindi... Tutti due l'isola. Vorrei sentire qualcuno altro. Vediamo un po', Roberta. Vediamo, Roberta, a che punto sta. Vediamo cosa ha in mente di fare. Allora, io sono rimasta metrificata quando mi ha dato il tema estate. Non lo so, vorrei fare qualcosa con un pochino. Adesso valuterò un attimino come muoverlo su questa idea. Intanto che faccio una parte di slime, ragiono e lavoro. Giusto, giusto. Ok, ok. Invece di Italo, la scorsa puntata è arrivato secondo, cosa ci offre? Vediamo un po'. Sì, un po' ci offre. Sto preparando la base per fare uno slime ispirato a un tipo di fiore, ovvero il fiore di Sacrofura. Bello. Bello. Ok, bella idea. Slime, dove sta la twisty? Eh, vediamo un po' twisty. Vediamo un po' twisty. Crea il tuo slime con Elmers. Ed ecco qui il tuo slime. Eccolo. Ciao a tutti, allora. Io già da tanti giorni sto pensando a questa idea. Per fortuna non mi ha dato il tema a me perché mi sarei ammazzato. Prima di fare il milkshake di box. Infatti avevo già preparato questo bicchiere, sperato. Bella. 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 Bella, fortuna. Bella. Quindi quando noi abbiamo annunciato che ci sarebbe stato un free, però avevo detto che era un free limitato, cioè non per tutti. C'ho sperato fino alla fine e sono stato fortunato, diciamo. Non me l'ho aspettato. Quando poi l'acido polico, diciamo, c'è poco, metà mi è caduto addosso e per terra come la prima e seconda. Di nuovo, un'altra volta. Vediamo un po' cosa sta facendo, Daniel. Ah, vedo un po'. Daniel, vi ha pagato su un aspetto. Io sono ancora a fare lo slime qua. Ok. E vorrei fare uno slime dedicato alle donuts, con le clay, vorrei farle. Bello. Bello, bello. È da bello. Daniel è molto, molto professionale. È vero, è vero. È veramente bravo. Curiosa, è bellina questa... Invece molto l'idea, veramente. Mi ha ingasato questa idea. È un po' bellino. Il tema è strada, dice. Ma una... Ti avessate passati, io non l'avrei fatto, mi sa, c'è ragione Flavio. Cosa? No, il tema è stata, forse anch'io non l'avrei fatto. Esatto. Non so, l'avrei fatto forse pure tipo gelato, qualcosa, non lo so, un po' diverso. Esatto, io avrei fatto tipo torte. Prima cibo, non so perché mangio sempre. A proposito di... Di prove e tutto questo, io vorrei prendermi questi cinque minuti per spiegare, visto che stiamo registrando, che Master Slimer sta per finire. Esatto. Cioè, stanno per finire le puntate. Tra qualche giorno ci sarà la semifinale per poi avere la finale in diretta con l'ospite super speciale che tutti quanti vi aspettate. Tutti quanti sapete chi è, eh? Lo immaginate. E volevo dire che dopo Master Slimer non ci farà la fine di questo progetto perché comincerà la Master Slimer, perché ai ragazzi che sono in chiamata abbiamo già annunciato e sarà, saranno sempre le video chiamate che ho questa, dove noi appunto daremo nozioni su come fare uno slime, quindi se vi può interessare lo trovate tutto sul link di... Una scuola di slime. Esatto, sì. Ok, vediamo un po'. Quanto tempo manca? Mancano nove minuti. Allora io mi prendo i cinque minuti. Ok, quindi ragazzi, ragazzi stop al tempo, appunto Creative Slime ASMR ha detto di stoppare, quindi tutti fermi e quindi tempo fermo e poi a cinque minuti. Quindi possiamo sì vedere proprio, prenderci questo tempo per vedere i ragazzi che stanno facendo. Esatto. Sono due che l'ha fermato nel momento e con lui, sono molto forti. Esatto, l'ha fermato nel momento. È vero, è vero. Quindi Italo? Un Amber Clay che appunto doveva rappresentare l'albero di sapere e poi doveva fare le decorazioni. Sì, ma si vede molto molto carino, riesco a vedere qualcosa. È bella. Veramente, anche bella idea. Ok, vediamo un po' Slime Sword, dove, a che punto era arrivato. Io adesso stavo facendo questa ciambellina. Bella, bella. Bravo, bravo. A vedere. Ci avevo tipo messo sopra la glass e adesso voglio mettere le decorazioni. Carinissima, carinissima. Oh, bravo, bravo. Bella. Un po'. Un po'. Un po'. Avevo fermato la sua creatività. Mi ha inciso la creatività. Era nel pieno della creatività. Avevo due idee addirittura, no? Perché ho detto, se mi danno meno tempo faccio questo, se mi danno più tempo faccio questo. Però contavo sul fatto che il tema lo potessi scegliere io. E quindi, boh, non sono tanto convinta, sinceramente. E però, allora, la mia idea è fare, di fare un mix di slime trasparente. Ho fatto un fluffy slime bianco e ho fatto un pochino di butter. E niente, di mescolare un pochino queste tre consistenze in maniera tale da ricreare un po' il mare, la schiumetta del mare. Poi lo vorrei decorare con queste cose, che non so cosa sono, a forma di conchiglia. E poi devo fare una conchiglia in clay, però in realtà non ho i colori adatti. Quindi adesso ci sto provando. Poi valuterò un attimo se è il caso di inserirla oppure no. Sofia, vediamo un po'. Sofia, che punto sei rimasta? Allora, io stavo creando delle sottospecie di panne. Ok. Tipo per rappresentare quella spiaggia, che sarebbe uno slime vinilico con fit e butter giallo. E' il tuo slime con Elmer's. Ed ecco qui il tuo slime. E avevo colorato anche un po' di base clear e l'ho messa come il mare. E ho aggiunto alcuni glitter e palline qui. e alcune pochissime colorate. Mi immagino che lui vuole piangere. Ok, vai twisty. Allora, io ho fatto già la base slashy, la vinilica. L'unica cosa è che, diciamo, mi sa che avevo esagerato con le dosi della colla e mi è rimasto tutta sta roba. Va bene. L'ho visto. L'ho visto. E mi servirebbe, beh, la base bianca. L'acido porico non l'ho, quindi ho dovuto modificare l'idea. E fare anche il cloud rosa. Spero che non viene proprio il colore così, però. Se mi metto a tensare questo mi servirebbe minimo un titolo di acido porico. Ok. Ragazzi, i cinque minuti, un attimo solo. I cinque minuti sono passati, quindi potete continuare. Ok, continuate. Vai, andate. Mancano otto minuti al termine della prova. Durante le votazioni che stiamo facendo. Ma che è votato. Ah, anche votato. Quindi, ottimo, ottimo. Se qualcuno è passato dobbiamo ringraziare anche i voti del pubblico. Ah, lo so. Eh, sì. Perché, devo dirvi la verità, non tanto nella prima puntata, ma intanto nella seconda, il televoto, tra virgolette, ha ribaltato molti risultati. Perché ci sono state delle votazioni molto... Cioè, alcune persone hanno avuto l'80%, il 70%. Ah, quindi mele nette. Eh, sì. Ha ribaltato la situazione, veramente. Posso dire una cosa? Mi sto inguaiando io, Fidelga. Poi vedremo. Non puoi essere sempre brillante. Eh, sì. Stop! Raga, mani in aria. Mani in aria. Mani in aria. Ok, la prova è terminata qui. Raga, adesso fateci vedere i vostri slime. Ok, iniziamo da Daniel. Ok. Allora, io ho fatto un DIY clay. La base l'ho fatta bianca, con sopra queste decorazioni che sono palline arcobaleno grandi, grosse. Poi glitter bianchi e sprinkles. E poi ho fatto, con della clay che ho fatto io, queste tre gemme. Mamma, bellissime. Che bello. Che bello. Che bello. Che bello. Bellissime. Mamma mia, bravo, bravo, bravo. Bravo, veramente, bravo, mamma mia, ottimo. Allora, questo qui è ispirato. Si chiama Matthew Cooper's Berry Pop Milkshake, di The Mixakes, di Pops, è formato da quattro tipo di gemme diverso. La prima è uno gemme rosa scuro, con delle slash, che sarebbe a significare il ghiaccio, diciamo, frantumato. La seconda è il classico milkshake, quindi il colore batte e fragole insieme, le panna e fragole. Tra lo gemme cloud e lo gemme basso c'era, diciamo, uno strato di, diciamo, topping alla fragola, che con lo gemme cloud, diciamo, ha iniziato a sprofondare, nella foto si vede meglio. Ok. Questo qui è un cloud normale, che tende più sul fianco. Per la fragola, l'abbiamo usato la gemme. Si? Meglio, meglio. Molto meglio. Poi ho fatto la cannuccia rossa, che si chiama comunque i colori dello slime. Bello. Ottimo. Questo è lo slime. Oh. Wow. E praticamente sotto, metà rosa e metà bianco. Poi sopra ci sono due fiori stoppa di Sakura. Poi ci sono delle perline, della neve finta rosa, delle games a forma di trenzatura e l'acqua. Bellino, carino. Bellino, carino. Bellamente bravo. Bello, bello. Ok. Beh, c'è il precedente qua. Allora. Ok, vai. Io aspetta che ci sta, devo comporlo, perché devo solo. Allora, questo è quello che ho fatto, ovvero, proprio l'acqua. Aspetta, non vedo più niente. No. Allora. Questa è proprio la spiaggia con l'ombrellone e una palla. Oddio. Bellissimo. Molto carino. Aspetta, per Daniele ho aggiunto questo pesce. Grazie. Mi stai comprando. Prezza. Come se solito si deve appassiare. Questo è uno slime di arretraspare. E poi l'ho fatta deserta, perché quest'anno lo coronavirus non andrà a nessuno. Scusa, la scusa per non denerarla. Quindi, questa è una palma. Quanto in mezzo. Quanto in mezzo. Quella tappia e poi il suo pesce che va qui. Oh, carissimo. Bello, bello. Le palle si sono afflosciate tantissimo. Erano dritte. Mostra bene, mostra bene. Ma vedi? È bella la visualizzazione. Mamma mia, è bellissimo. È bellissimo. E poi, tipo qua, ci sono dei glitter. Ed è un po' perlato, però ora non si vede. Oddio. E ci sono alcuni sprinkles. Le palline e, tra lo strato, ci sono delle parine azzurre e anche arcopalline. Mostralo da lontano, mostralo da lontano, quello completo. Ma è bellissimo. Bello, veramente bello. Bellissimo. Come vi avevo già preannunciato, volevo fare una parte trasparente, una parte più flaccosa, bianca e una parte batter celeste, che però erano divise abbastanza bene, poi la trasparente ha detto di sprofondare. E vabbè, comunque, poi ho fatto, quindi l'effetto schiuma di mare, cioè da molto vicino un pochino. Potresti mostrare. Esatto, eccolo. Bello. Bello, veramente bello. Ragazzi, ora dobbiamo commentare, siamo rimasti solo noi e dobbiamo dare i voti. Andiamo un po'. Allora, io ho la lista di... Daniela puoi dare solo il punto bonus, cioè 10 punti a una sola persona, cioè da uno a 10 a una sola persona. Quindi abbiamo deciso, vogliamo fare di questa prova... Sì, sì. Ok. Così, esitarò una prova in più per lo spariggio. A sorpresa. Ok, andiamogliela a dire. Andiamogliela a dire. Abbiamo deciso di fare un mystery test, nel senso che voi, solo voi due, vi siete dovrete sfidare e noi daremo praticamente dei punti di vantaggio perché adesso siete in parità e rischiate entrambi di essere eliminati. quindi... Quindi per evitare eventuali pareggi anche con il voto del pubblico. Se per esempio rimarrete nuovamente con lo stesso punteggio, chi ha vinto questa prova andrà avanti. Ok? Siamo pronti? Dovete fare una slime art. Una che? Una slime art. Già partiamo male che non sai cos'è una slime art. No, non ho capito cosa hai detto. Sto scherzando. Allora, una slime art, nel senso che devi ricreare, o dovete, scusate, ricreare animali marini a vostro piacimento, con lo slime o affini, ossia anche clay, eccetera. Che tempo? Avete detto quanto tempo? Dieci minuti. Dieci minuti, ragazzi. Ovviamente sempre i primi due minuti iniziali per prepararvi e poi iniziano i dieci minuti della prova. Ma lo slime deve essere piccolo, grande? Come volete. Quale? Ok. Ah, libero. Come mi piace di più, basta che siano figure di animali marini. Allora, i due minuti iniziali iniziano. Tre, due, uno, via. Via. Ah, e non mi fai gli altri di questa. No, 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 silenzio. Questo deve essere una cosa segreta tra di noi, quindi. Mi sto purendo, ragazzi. È una prova pure difficile, devo dire. Esatto. Esatto. Poi in dieci minuti. Vabbè, la seconda metto in modo. Perché va bene, le prove si iniziano a fare sempre più difficili, quindi è ovvio che anche i più bravi vanno in basso. Purtroppo. Cioè, voi due eravate... Crea il tuo slime con Elmers. Ed ecco qui il tuo slime. Vai, vai, Mattia, vai. Per me è stata più difficile degli altri. Sì, è complicata questa. Sì, sì, è abbastanza difficile questa. Perché era la prova appunto per salvarmi. Coppa al tempo, ragazzi. Stop. Adesso, tra qualche minuto, poi c'è qualche secondo, inizia. Iniziano i dieci minuti. Siete pronti? Possiamo iniziare? Ok. I dieci minuti della prova iniziano tra 3, 2, 1, via. Poi in diretta, voglio proprio vedere... Cioè, madonna mia. Siacchino la risa... Cioè... Poi proprio vedere come si muovono in diretta. Questa è una notatica cosa. Se vedi in diretta dobbiamo essere capaci tutti di intrattenere... Proprio a tua, tu, sei qui, 40 minuti. Mamma mia. Ma quanta macca? Mancano 5 minuti e 40 secondi. Guarda, secondo me proprio non è nemmeno avviato. Cioè, vedi proprio preoccupati. Però vedo l'idea. Lavora, 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 come al solito. Ma che non si riesce a vedere? Non per dire, ma ho la maglia piena di colla. E quindi, cioè, non so fare niente. Cioè, sono quasi in alto. Vedremo, dai. No, ma... Ma ti molto preoccupato, lo vedo proprio. No, guarda come è bravo Italo. Esatto, bravo. Cioè, tutto preparato, pronto, taglia. Un minuto, ragazzi. L'ultimo minuto, veloci. Madonna. Vabbè, non vi preoccupate. Comunque, cioè, chi perde o chi vince. Cioè, ovviamente dobbiamo aspettare il voto del pubblico prima di... Dovete sperare che non ci sia un ulteriore pareggio col tessico. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Uno, top, alzate le mani! Alzate le mani! Perfetto! Anche questa prova è terminata. Quindi vedo Mattia un po' con le mani pastrucchiate. Mi preoccupato, mi vedo troppo pastrucchiate. Mamma mia! Questo è lo slime. Oh, è bella. Ok. Ok, ho fatto queste sfumature al polipo per sembrare tipo i tentacoli. Non so se si vede. Sì, sì. Le ho fatti un po' kawaii, cioè, diciamo, con gli occhi, cioè, per dire un po'... Ho fatto questo pesce verde, questa stella marina rosa con le sfumature arancioni, un altro polipo e due pesce. Questo pesce è d'ori, più o meno. Ah, ok. Mandaci da fuori. Perfetto, perfetto. E sotto, ovviamente, c'è il mare che... quindi è così. Ok. Adesso passiamo a Italo. Oh, bello! C'è il mare con dei glitter e delle fishball blu. Poi qua c'è... ho fatto... non ho fatto Toro, ho fatto Flounder. Flounder, stanno bene. L'ho capito. Poi qua Nemo. Bello! Qua una stella marina... a caso. Random. E poi qua c'è uno squalo Charm. Ah, ok. Bello! Ok, bene. Bello, dai. Allora. Vabbè, ho perso, ragazzi. Avete le idee chiare? Sì. Quindi diamo anche adesso i voti, oppure... Sì, sì, vai, ora. Vediamo. Ti preferiamo. Ti preferiamo oppure i voti? Ti preferiamo. Ok. Vai, Antonio. Italo, purtroppo. Mi piace molto... Cioè, in questo caso, si marchiamo a preferire scordare l'Italo. Flavio? È molto bello, molto bello. Ehm... Beh, Mattia. Mattia. Cioè, era difficile, però invece più Mattia. Io dico Italo. Bravo Italo. E noi come valiamo? Non è che... No, ma poi io e poi... Di Daniele e poi... Quindi io sono... Se dico Mattia e Parry, se dico Italo ha vinto Italo. Esatto. Tanana. Andiamo un po'... Un po' di sasperi. Allora, sono sincero, ma a partire gli scherzi. Mattia, mi piace perché ha fatto tipo acquario. Mi piace come... Ah, è Daniele è fissato. Io sono fissato con gli acquari, quindi in realtà mi è piaciuto molto. Però itale sono forse più vicino al tema che hanno detto dell'arte, dell'arte, insomma, una cosa artistica. Poi mi hai scelto Nemo che io amo come l'artone. C'è Nemo e... Quindi do il voto a... Tu, bruno e ti amuri, tu... Italo. Ok, quindi... Vediamo Yolanda. Anche se... Allora, io... Ma il mio voto vale? No, è riverente ora perché io... Vale, però... Ah, indifferente. E stai zitto! Ah, no, io devo essere sincera. Allora, io apprezzo il lavoro di Mattia perché l'ho visto un po' spiazzato all'inizio. E ho apprezzato che anche se si è impegnato, ha fatto quello che ha potuto fare in questi pochi minuti. Però, come pulizia del lavoro e precisione, ho preferito Italo. Ok, quindi... Questo apprezzato nel caso ci sarà un pareggio. Italo passerà avanti e Mattia. Quindi dovete sperare il voto del pubblico, ok? Esatto. Questo era tutto. Questo era tutto, potete andare. Quindi... Aspettiamo i voti dei sondaggi e poi ci vediamo quando ci sarà un pubblico. Ci vediamo domani. C'è tutta la classifica. Allora, ragazzi, abbiamo il verdetto. Spegnete tutte le telecamere. E adesso chiamerò cinque persone. Tra queste cinque persone, appunto, avremo i... Due migliori e due eliminati. Esatto. Due migliori, due eliminati e una persona salva per pelo. Salva per un pelo proprio. Salva proprio per un pelo. Esattamente. Allora, devono attivare la telecamera. Alpaca Slime. Ok. Perfetto. Poi Dragon Slime Roby. Ok. Slime Sword. Twisty Slimes. E Creative Slime ASMR. Ok. E ovviamente poi c'è, appunto, Sofia che è salva, quindi non è tra queste persone. Ok. Ci siamo. Quindi lei sicuramente andrà nella prossima prova. Contato. Allora. Quindi ci siamo. Allora. Ragazzi, adesso vi spiego cosa abbiamo fatto ieri. Praticamente, ieri, come ospite, avevamo Daniele. Quando siamo andati nel retroscena, abbiamo avuto dei pareggi. Cioè, abbiamo avuto un pareggio. Questo pareggio era tra, inizialmente, tra Gianluca e Mattia. Poi ci sono stati dei vari cambiamenti. E poi, successivamente, erano tra Mattia e Italo. Una volta avuto questo pareggio, noi avevamo paura che questo pareggio si ripresentasse nei sondaggi. E quindi le persone da eliminare erano oltre. E non andava a fare questa cosa. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, insieme a Yolanda, che poi ha aggiudicato anche la sfida, di fare questa prova bonus, che sarebbe servita nel caso in cui questo pareggio si fosse riproposto. Riverificato. Esatto. Quindi, questo pareggio non si è verificato. Non si è riproposto. Per fortuna per Mattia e per sfortuna per Italo, appunto, il punteggio è andato a favore di Mattia e a sfavore di Italo. Quindi la prova, praticamente, non è servita, tra virgolette, però ha confermato la bravura di Italo, perché è uscito vincitore Italo in quella prova. Quindi, dopo questi giorni... Quindi, Italo ha vinto la prova di ieri, però è stato, purtroppo, eliminato, mentre Mattia passa, si è stato salvato per miracolo proprio. Esatto, proprio dai sondaggi. Per noi eri già eliminato, ti è passato grazie ai sondaggi. Esatto. Poi ieri il sondaggio è andato bene, abbastanza bene per te, quindi praticamente ti sei salvato per un pelo. Quindi, a male in cuore, nonostante sia confermata la bravura di Italo, dobbiamo appunto dirti che sei il primo eliminato di questa puntata. Mi dispiace per l'Italia, no? Mi dispiace veramente. Bravissimo. Questo, ripeto, è una questione di punteggi. Ripeto, una questione di punteggi, appunto, un punteggio in più, un punteggio in meno, ecco, fa la differenza. E anche Yolanda ha confermato la tua bravura, voglio dire. Esatto, esattamente. Quindi, non ti preoccupare, sei bravissimo. Adesso chiamerò un'altra persona, non dirò cosa ha fatto. Allora, chiamo Dragon Slime Robby perché... Crea il tuo Slime con Elmers! Ed ecco qui il tuo Slime! Con la bellezza di 41 punti è la prima classificata di questa prova, bravissima! Brava, brava, brava! Bravo! Non me l'aspettavo proprio! E invece... Sei stata veramente brava, il tema è stato veramente centrato in punto, cioè brava, brava. Poi la pulizia, ti hanno fatto i complimenti tutti, soprattutto Daniele, chiede a Dato l'8 punti bonus, quindi vuoi ringraziarlo? Sì, beh, certo, grazie. Poi, vabbè, penso che comunque anche Yolanda un pochino abbia indirizzato, quindi, cioè, sei emozionato. Sì, sì, ma infatti Yolanda ha fatto un... La sa parte. Per ora ti diciamo che avrai un vantaggio enorme nella semifinale. Esatto. Ah, ma... Poi scoprirai, appunto, nella semifinale. Ok, adesso chiamerò un'altra persona. Allora... L'altra persona che voglio chiamare è... Slime Sword, perché purtroppo sei stato il secondo classificato di questa prova, bravissimo! Bravissimo! Bravo, bravo, bravo! Grazie, grazie! È stato veramente bravissimo, è piaciuto veramente tantissimo il tuo slime, come è stato fatto principalmente, bravo, bravo, bravo! Grazie mille! Bellissimo, bellissimo! Buon parola della sua vita! Da effetto, proprio da effetto! Esatto! Bravo, bravissimo, bravissimo! Cioè, stai confermando la tua bravura, proprio vai, 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 bravo! Veramente c'è... A noi è efficissimo! Bravo! Quindi siamo aggiunti all'ultimo eliminato, cioè il secondo eliminato di questa prova, che è Twisty Slimes. Ci dispiace tantissimo, perché anche tu hai confermato di essere bravissimo, come tutti gli altri. Noi vi salutiamo, se vi piace il tuo format lasciate un like, un commento e seguite la pagina Slime Con Ito se volete continuare a seguire le nostre puntate. Vi mandiamo un bacione. Ripeto, ogni giovedì sempre qui sui canali di Slime Con Ita, quindi seguiteci. Ciao! 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 Ogni giovedì dal 28 maggio, solo su Slime Con Ita.